Si torna a parlare della Guardia Medica, questa volta a causa della nuova organizzazione prevista nell'atto di indirizzo per il rinnovo della Convenzione di Medicina Generale che il Comitato di Settore e Governo Regioni ha approvato il 13 aprile scorso. Ci vuole raccontare di cosa si tratta? Sì, certamente. In base a questa che finora è al momento un'intesa siglata dal Governo Renzi e dal sindacato più rappresentativo della categoria dei medici di base, l'assistenza sanitaria di base verrà garantita esclusivamente dai medici di base dalle 8 del mattino alle 24, mentre nella fascia oraria dalle 24 alle 8 del giorno successivo che attualmente è coperta dalla Guardia Medica, l'utente non avrà più questo servizio, dovrà rivolgersi al 118, il quale però interviene soltanto in casi di emergenza. In tutti gli altri casi in cui è richiesto un intervento, comunque in un arco temporale breve, il paziente dovrà recarsi in pronto soccorso, che è già sovraccarico adesso. Questa situazione provocherà un aumento degli accessi impropri in pronto soccorso. Faccio un esempio, ci sono situazioni che possono benissimo essere gestite a domicilio dalla Guardia Medica come avviene adesso con una semplice valutazione, con una semplice visita domiciliare, con un intervento medico al domicilio. Se non ci sarà più la Guardia Medica, il paziente dovrà andare in pronto soccorso. Teniamo presente che il più delle volte si tratta di pazienti anziani con difficoltà a spostarsi, con difficoltà a muoversi, per cui devono richiedere l'intervento dell'ambulanza sottraendola in questo modo a interventi che potrebbero essere più urgenti. Questa è la situazione. L'Italia del rispetto aveva organizzato una raccolta firme proprio davanti all'ospedale di Voghera e l'aveva fatta abbracciando anche il Partito Democratico. A questo punto qual è la vostra posizione come movimento cifico nei confronti del PD locale? Ma nei confronti del PD locale non c'è nessuna posizione. Sicuramente dobbiamo chiarire con la gente che ha partecipato e ha firmato la petizione e questo chiarimento potrebbe essere semplicemente su una domanda. Se noi abbiamo raccolto le firme per il buonatore di guardia medica, oggi ci troviamo a prendere atto di questa proposta per questa modifica della convenzione che porterebbe quindi anche all'accessazione della guardia medica. Mi sono fermato solamente qua. Io porrei una domanda di dare una risposta concreta a questo disagio. Noi nel frattempo abbiamo organizzato per tutta la settimana una distribuzione a porta a porta con un volantinaggio dove spiega questo disagio. Senza l'aiuto del PD? Senza l'aiuto del PD. Farete da soli questa volta? Siamo da soli questa volta, sì. Che tipo di appello si sente di fare al Governo nazionale? Ma diciamo che c'è il solito problema. Queste riforme, queste decisioni ci vengono calate dall'alto senza consultare tutti i sindacati e tutte le organizzazioni rappresentative della classe medica. E di questo molti miei colleghi, quasi tutti, se ne rammaricano. Quindi io vorrei che ci fosse, diciamo, più concertazioni in questo e che non si facciano soltanto interventi calati dall'alto secondo me ha il solo scopo di tagliare le risorse in un ambito dove non dovrebbero essere affatto tagliate. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.